Nomi e personaggi davvero prestigiosi alla 22esima edizione del premio Fedeltà allo Sport che si svolgerà lunedì prossimo 7 maggio. Fra questi Marco Villa, attuale commissario tecnico della Nazionale Italiana di Ciclismo su Pista, che ha fatto incetta di medaglie ai campionati del mondo. Villa si aggiunge ad un cast di eccezione con altri 4 campioni del mondo, Alberto Gilardino, il ridato a Berlino 2006 con la Nazionale Italiana di Calcio e a livello di club con il Milan l'anno successivo. Ma a fare la parte del leone del premio di quest'anno ci sarà la palla a volo con Elisa Togut e Manuela Leggeri, ridate a Berlino nel 2002, nell'unico mondiale femminile vinto dalle azzurre. Sempre per il volle Luca Cantagalli, uno dei più grandi schiacciatori di sempre, che faceva parte della nazionale chiamata Generazione dei Fenomeni, vincitrice di tre mondiali consecutivi. Un momento esaltante anche per il volle lucchese, grazie alla bionatura nottorinica Pannori, ne ho promosso in B1 e finalista in Coppa Italia. Per la formazione bianconera riceverà il premio il libro Ilaria Miccoli, giovane bandiera della squadra avendo indossato fin da bambina la maglia bianconera senza aver mai cambiato casacca. Sfinge d'oro anche al direttore sportivo di calcio Gianluca Andrissi e all'ex calciatore dell'Inter Francesco Ciccio Colonnese. Ma l'albo d'oro del premio si arricchisce quest'anno anche con il nome prestigioso di Gabriella D'Orio. Medaglia d'oro nei 1500 metri a Los Angeles 1984, unica mezzofondista azzurra, da aver disputato tre finali olimpiche. La D'Orio sarà la 34esima medaglia d'oro olimpica a ricevere la Sfinge d'oro, tra i premiati anche lo spagnolo Angel Fernandez, campione europeo di palla a mano, Benedetto Piccinini ed Elena Bruno. Appuntamento dunque a lunedì prossimo per una serata che secondo tradizione regalerà momenti davvero emozionanti e ricchi di fascino, nonché di storia del mondo dello sport.